Ciao a tutti amici di Youtube, io sono Travata91 e curiosamente lo stesso giorno dell'anno scorso è il mio compleanno, vabbè ovviamente scherzi a parte, sì ora sono a 33, gli anni di Cristo, spero di avere esperienze meno dolorose di quelle che ha avuto lui alla mia stessa età, però a parte questo, ora piccolo video in occasione del compleanno, nei prossimi giorni facciamo anche una like così chiacchieriamo tranquillamente, Sarà da giovedì 25 in poi, non ho ancora in mente una data ma non prima perché il 22 ho un'anteprima, il 23 ho una cena per il compleanno, ne farò un paio, una stasera e una al 23, il 24 dal pool e wolverine, quindi il giorno dopo vi pigliate a prescindere lo short Parlando di video, non so quanto si sente la gente che usa il claxon fuori ma vabbè ripeto, con sto tempo io non chiudo le finestre se no mi sciolgo Comunque, sono pronti, già montati il video su Immaculate e su Twisters, usciranno domani e dopo domani e poi arriverà appunto Deadpool e Wolverine Ma parliamo dell'argomento di oggi, un piccolo unboxing che ero indeciso se fare o non fare, mi sono detto ma si dai l'occasione tra l'altro è agghiotta, visto che l'articolo in questione mi è arrivato proprio ieri Ovvero la steelbook di Godzilla e Kong Il Nuovo Impero, una delle tre steelbook 4k che sono state rilasciate in occasione dell'appunto uscita in un video del film Che è avvenuta a fine giugno, se non ricordo male, io avevo aspettato un attimo, mi sono detto va aspettiamo il Prime Day, visto che arriva a metà luglio Vediamo se lì c'è qualcosa, e sì, l'ho preso per il Prime Day, però non era scontato per il Prime Day, cioè nel senso Prezzo base 29,99, classico prezzo di un 4k, in particolare di un 4k steelbook Durante il Prime Day è sceso a 25,80 ma non c'era scritto offerta a Prime Day, era sceso così tanto per Probabilmente andando avanti scenderà ancora di più, però mi sono detto vabbè dai non ha molto senso aspettare Tra l'altro un po' che non ho preso troppa roba nuova ultimamente Facciamolo sto acquisto va, tra l'altro mi è arrivato appunto il 20 luglio, così oggi è anche l'occasione buona per fare Questo piccolo video E allora, prima di appunto parlare un attimo dell'articolo, visto che qualcuno me l'ha chiesto in privato Quando è stata annunciata la cosa, sì, è stato annunciato il regista del sesto film del Monsterverse Che non sarà più Adam Wingard Che per motivi di schedule non potrà tornare, sebbene aveva dichiarato più volte che avrebbe voluto Ha fatto finora solo un film su Netflix che però non ho ancora visto Ora, c'è chi mi ha chiesto di commentare la cosa Ne approfitto qui brevemente per dirvi E cosa commento? Cioè, il film non l'ho visto Questa è la classica mossa da Monsterverse, ovvero prendi un regista Che all'attivo O pochi film o comunque niente di roba ad alto budget Lo ficchi qui a fare il blockbusterone Funziona o non funziona più o meno a seconda dei casi Vedremo se stavolta ci andrà bene o ci andrà male C'è da dire, a livello di numeri di film Edwards era quello con meno film all'attivo, ovvero uno solo Quindi al pari di questo E ha tirato fuori per me il film migliore del Monsterverse Mentre invece gli altri avevano all'attivo Chi 2, tipo Doutry Chi 3, tipo Jordan, Von Roberts Quello che ha fatto con Skull Island Wingan aveva già fatti un po' Insomma, quello con meno film è quello che ha fatto il lavoro migliore Ironicamente Succederà la stessa cosa anche qui Boh, chi lo sa, staremo a vedere Però è troppo presto C'è anche chi mi ha chiesto, secondo te, chi sarà il cattivo C'è stata anche una volta una domanda in faccia di nerd Ragazzi, mancano tre anni Il film uscirà a marzo 2027 Parentesi C'è chi ha detto Non è un po' tanto Questo è uscito a tre anni di distanza da Godzilla vs Kong Il prossimo uscirà a tre anni di distanza da questo Siamo perfettamente nei tempi E questo aiuta Perché è un grosso problema Della Hollywood contemporanea Che facendo uscire roba a catena di montaggio Una dietro l'altra Si è un po' perso il gusto dell'evento Perché tanto ormai si è abituato ad avere Tanti film della stessa roba che ti piace Tutti attaccati Il Monsterverse invece Facendo uscire uno ogni totti anni Fa sì che ogni volta Il pubblico Anche se magari non è l'enorme pubblico Dell'MCU Si senta più fidelizzato E vada Tutte le volte Qualcuno appunto può dire Beh l'MCU ha fatto successo Facendo uscire due o tre film all'anno Sì Due o tre film all'anno Sempre su personaggi diversi E in più Per come è strutturato Nell'MCU Aveva senso Nel Monsterverse ragazzi Non ha senso Fate uscire un film Ogni due anni Ogni due anni O appunto tre Come in questo caso Di più Non ha veramente senso Poi è probabile che Prima che esca questo film Esca la seconda stagione Di Monarch Cosa di cui ovviamente Non è che sia molto felice Però tanto si sa Che la guarderò Ne parleremo Quindi se avete fame Di parlare di Monsterverse Ci sarà qualcos'altro Che ci terrà un po' buoni Prima che arrivi il film Poi vediamo quanto ci tiene buoni Visto che è Monarch Però Staremo a vedere Detto questo appunto Parliamo di questa edizione Allora Come ho già detto Nella famosa live Post Godzilla e Kong In cui si parlava del futuro Del Monsterverse C'erano Hanno fatto uscire Tre steelbook Una è questa Che non è il massimo Perché Ci sono proprio I due personaggi Photoshopati Alla cavolo Sull'artwork E con questo Godzilla Che è abbastanza deformato Rispetto a come appare Nel film Quindi non è il massimo Il problema è che Le altre due erano Una questa qui bianca Con i primi poster Quelli dove c'era La zampata di Scar King E dentro C'erano le facce Dei protagonisti Solo che A me le steelbook Così eccessivamente bianche Tendenzialmente Non fanno impazzire Per questo è un film Molto colorato Una steelbook bianca Non la vedo molto In tono Cioè in linea Col tono del film Forse se ci fosse stata La steelbook contraria Cioè se avessero fatto La variante Davanti Kong E dietro Godzilla Come quella che è uscita E poi la variante Davanti Godzilla E dietro Kong Forse quella con Davanti Godzilla Un pensierino Ce l'avrei fatto Perchè sono un fanboy Perchè sono un fanboy di merda Lo sapete Però Messa così Non mi faceva impazzire Quindi l'ho scartata L'altra in realtà Mi piaceva di più Per questa idea qui Delle silhouette Con questi colori Non mi dispiaceva affatto Peccato che come colore Abbiano scelto Il rosso E il giallo Che non c'entrano Assolutamente niente Con i colori Predominanti del film E quindi Per me era fuori Allora a sto punto Pegliamoci questa Che almeno a livello Di colori ha azzeccato E tra l'altro Ci sta anche molto bene A livello di costina Accostata alle altre Perchè Io qui ho tutte le steelbook Del Monsterverse Guardate ci sta molto bene Si parte dal rossone Del Godzilla di Edwards E poi ci sono Le due transazioni Un po' rosso Un po' blu Di Kong E di Godzilla King of the Monsters Un po' anche Di Godzilla vs Kong E poi si diventa Tutta blu sotto Quindi c'è un po' Questa cosa Di sei gradi Di separazione Possiamo dirla così E quindi dai Ci può stare Ma è anche così Non sono male Viste qui da sopra Ok dai Anche nel suo insieme È una cosa carina Io appunto Ho tutti i film Del Monsterverse In steelbook Perchè ok A parte il Godzilla di Edwards Non è che gli altri film Abbiano chissà quale Grande valore artistico Ma La fanboy di merda Di Godzilla E dei mostri in generale Un Appunto una saga Chiamata Monsterverse Non potevano non avere Tutti i film Così in sto formato Tra l'altro Divertete che se guardate C'è Con Skull Island Che Sembra un po' L'intruso Perchè tutti Godzilla 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 Ok che c'è anche Kong Però comunque Godzilla è sempre il primo Cioè Sto stronzo qui di Kong Che è l'unico Con solo Kong Nel titolo Vabbè Queste sono fisime Da collezionista Parlando appunto Della steelbook Steelbook 4K Infatti dentro Poi lo vedremo C'è il disco 4K Più il disco Blu-ray Allora come ho detto La parte davanti Sì e no Però appunto Per me era il meno peggio Delle altre Kong mi piace anche abbastanza Il problema appunto È sto Godzilla Deformato In sto modo Cioè È il Godzilla Smilzo Dell'ultima parte del film Ma l'hanno strecciato Per farlo sembrare grasso Come nella prima parte Che per carità Lo preferisco più grasso All'inizio Però Non ha molto senso Fare così Vabbè Poi qui abbiamo Il retro Che tanto sarà uguale Per tutte le steelbook O meglio Questa parte qui Col foglio Che come al solito Attaccato Col solito adesivo Dietro in questo caso Abbiamo Shimu O Shim Scusatemi non Shimu Suko Con dietro La sua versione più grande Ricordiamo che quando Kongo lo incontra Questo si vedeva fin dal trailer Compare quest'ombra Che sembra grossa come lui Però più gli si avvicina Più si rende conto Che è un cucciolo Appunto viene fuori Suko Questa parte dietro Mi piace È un buon retro Ecco Non l'avrei messa davanti Ma è un buon retro Aprendo Tolgo un attimo i dischi Per farvi vedere l'interno L'interno è Godzilla Che è appena uscito dai ghiacci Nella sua forma rosè Anche qui non è malaccio Se non fosse che a me Non è mai piaciuto La colorazione Che per qualche motivo Godzilla ha In questo momento Quando Godzilla emerge dai ghiacci Che sia qui O quando emerge dai ghiacci Che Shimu ha appena fatto piovere Su Rio C'è sta colorazione grigiastra Che secondo me Era tipo la colorazione originale Poi non gliel'hanno cambiata A differenza poi Del resto del film In cui effettivamente Ha quel Verde Con sotto la pancia gialla Che mi piace molto di più I colori Tendenzialmente i colori Del nuovo Godzilla Mi piacciono Il rosso si intona anche molto bene Però a parte in questi momenti Però c'è da dire A parte questo Hanno scelto secondo me Una colorazione adatta Anche perché così abbiamo Il davanti con entrambi Il retro Ok non proprio con Kong Ma con una cosa Che è riferita a lui E dentro c'è Godzilla Quindi comunque Si cerca di trovare Un buon equilibrio Tra Tra i due protagonisti Grossi Poi appunto abbiamo I due dischi Tra l'altro appunto Godzilla Ovviamente il disco di Godzilla È tutto rosa Come appunto la sua nuova forma Konga il 4K E Godzilla il Blu-ray Il che da un lato Ha senso Che Konga abbia Diciamo il disco Che lo raffigura Che nel formato Con maggior definizione Perché essendo Konga Più protagonista di Godzilla Cosa che molti hanno criticato E infatti E io stesso comunque Lo reputo uno dei difetti del film E infatti Il prossimo film del Monster Vi s'hanno promesso Che sarà più Godzilla centrico Però comunque Visto che appunto Konga è il protagonista Effettivo Ci sta che lui abbia Il disco maggiore Con la definizione maggiore Però siccome io tanto Guardo solo il Blu-ray Perché non ho ancora La TV 4K Godzilla lo tengo davanti E quindi Ritorniamo alle giuste A chi sta davanti A chi sta dietro Come è giusto che sia Che sto con davanti Adesso Non diciamo fesseria Ecco Che ha più senso Godzilla davanti Bravi Così si fa Allora Ho già provato Il disco Ovviamente E che dire A meno quello Blu-ray Purtroppo Il 4K Ripeto Non lo posso Ancora provare Ottimo Nel senso Qualità Audio-video Fantastica Si può apprezzare Il film In tutta la sua Magnificenza Anche un po' CGI-osa E cartunesca E quindi Sono contento Contenuti Contenuti speciali Non li ho ancora Visionati Però possiamo dire Che qui abbiamo Commento di Adam Wingard E numerose featuret Che approfondiscono La storia E le origini Di questi titani Viaggio nel cuore Del nostro mondo Per scoprire La spettacolare Terra Cava E incontrare Nuovi personaggi Osserva da vicino Le epiche battaglie Del film Ed esplora Dietro le quinte In compagnia di Wingard Del cast E della troupe Per dire C'è contenuto extra Che si chiama Gia Da bambina a guerriera Che poi guerriera Non è proprio corretto Perché lei non è che combatte È più una sacerdotessa Però vabbè Da bambina a guerriera Suona molto più figo Di da bambina a sacerdotessa Di motra Effettivamente Un po' li capisco A parte questa E non ci sono scene tagliate Se non avrei fatto Il commento alle scene tagliate Come quando ho fatto Ho parlato Dalla steelbook Di Transformers in risveglio Però qui appunto Non ne hanno messa Anche perché Da quel che ho capito Comunque non è che Abbiano tagliato tantissimo Da quello che ha detto Soprattutto Filippo F Che è quello sempre informato Sui dietro le quinte Dei vari film Quello che volevano fare Bene o male l'ha messo L'unica cosa Magari ecco Questo mi è sfuggita Perché appunto Non ho ancora guardato I beni contenuti extra Magari dentro c'è qualcosa In merito a Fosfera Cioè il mostro Che doveva Fare da pacere Tra Godzilla e Kong Prima che decidessero Anche giustamente Di mettere motra Speriamo dai Che la cosa Sia così Per il resto Comunque Bel blu race Allora ovviamente Il film non è piaciuto a tutti Se vi piace Se vi è piaciuto Se siete appassionati Del monster Sicuramente consigliato Per le steelbook Ripeto Questa per me È meno peggio Però secondo me Nessuna delle tre steelbook Brilla particolarmente Ma in generale Le steelbook del monster Allora Carina la 4k Del Godzilla di Edwards Anche se Io avrei invertito Il davanti e il dietro Perché io avrei messo Davanti Questo Con appunto Godzilla E avrei messo Sul retro la coda L'avrei sinceramente preferito Però ho deciso di far così La più carina Secondo me È quella di Skull Island Questa immagine qua Di Kong Con questo stile artistico È veramente Veramente figa Poi anche il retro Con i soldati sotto Molto molto bello Secondo me Come qualità di steelbook Questa è la migliore La più brutta Rimane sta roba Pop art Schifosa Di Godzilla 2 King of the monster Spero che prima o poi Esca una nuova steelbook Così me la compro E faccio il rimpiazzo Molto carina Questa qui La seconda di Godzilla e Kong Avevo preso anche l'altra In cui c'erano i due mostri Da sotto Non mi faceva impazzire Questa invece Con Godzilla sopra Che rugisce a Kong Sotto Con anche i due colori Il blu di Tokyo E in questo rosso Lava della Terra Cava Questa mi piace Veramente Questa mi piace molto È la mia preferita Credo dopo quella Appunto di Skull Island E anche il retro Guardate qua che figo E poi appunto C'è questa qui Che Insomma Diciamo che Come quali Dovendo fare Una classifica Qualitativa Direi Questa Ultimo posto Questa Penultimo Poi metterei Questa Poi questa E vincitrice Questa Appunto quella di Edwards Poteva essere più in alto Se avessero switchato Il davanti e il dietro L'avrei messa più in alto In quel caso Messa così Per mio gusto Preferisco questo Per tutto il mio gusto Non è che Se voi ne preferite In un altro modo Va benissimo Ci mancherebbe altro Vorrei fare un piccolo Applauso ad Amazon Che Ha fatto arrivare la Steelbook Con un minimo di protezione Perché solitamente Amazon Piglia le Steelbook Nella confezione Te le manda così Peccato che Nei furgoni di Amazon E tutto Rischino poi Di rompersi O di graffiarsi A quel punto I collezionisti incazzati Giustamente Chiedono il reso Probabilmente hanno capito Che forse Forse sarebbe meglio Evitare di rompere ogni volta Quindi finalmente Mettono un minimo di protezione Deo Grazias Infatti in quest'ottica Sono sempre stati meglio Sia DVD store Che c'è Chigori Gli altri due siti Da cui di solito compro Perché lì un po' Di imballaggio L'hanno sempre messo Bravi Così si fa Anche Amazon Sta capendo Grazie Amazon Bravo Mi sei piaciuto Ora adesso La Steelbook Dovrebbe essere tornata A prezzo pieno 29,99 Probabilmente prima o poi Diminuirà E andrà ancora più giù Andando avanti Però non ho resistito Ho detto No dai Ce l'ho Lì da un po' Che ce l'avevo lì in lista Pighiamole Vada via il Q E poi appunto Mi ha dato anche la scusa Per il piccolo video Di compleanno Ovviamente L'unboxing a tema Godzilla Che io aspetto davvero E che sono qui Ad attendere Comunicazioni ufficiali È quello di Godzilla Minus One Appunto Non si sapeva Quando sarebbe uscito In Italia O in generale Al di fuori del Giappone Perché in Giappone È arrivato a maggio Collector's Edition 4 dischi 4K Blu-ray DVD E Blu-ray Con la versione In bianco e nero Se non ricordo male Comunque meravigliosa Quella l'avrei tanto voluta Però era solo in giapponese Avesse avuto tutte le lingue Ok Almeno solo nei sottotitoli Ma solo in giapponese Va bene che Godzilla È giapponese Eccetera Però vorrei avere un'edizione Che contenga Almeno la mia lingua Anche solo Sottotitolata Poi che succede A inizio mese Su uno dei gruppi Di collezionisti A cui sono iscritto Uno che spesso Mette news Su questa cosa Non dico nomi Perché non so se Gli interessa Comunque per motivi di privacy Sto zitto Se mai un giorno Uno mi vedesse il video E mi dice No no La prossima volta dimmi pure Lo faccio senza problemi Oppure se mi dice No hai fatto bene Stai zitto Ma benissimo comunque Comunque Mette sta cosa che dice In arrivo prossimamente in Italia Godzilla Minus One Steelbook 4K E Collector's Edition Vi prego Vi prego Ditemi che veramente Veramente La Collector's Edition Del Giappone Quella bella grossa Figa Che dicevo prima Arriva in Italia Non mi interessa Quanto costa Costa 100 Costa 120 La piglio Subito al Day One Io ho bisogno Di quella cazzo Di Collector's Edition Ci faccio anche Un bello unboxino Perché proprio Veramente È stupenda È meravigliosa Purtroppo non ho news Più precise Non so quando uscirà C'è chi ha detto Settembre Però quello lì Non so Ma qualcuno potrebbe Anche dirmi Ok ma ti fidi Cioè davvero la tua fonte È un tizio pubblicato Su Facebook Verissimo Però per esperienza Vi dico Tutte le volte Cioè quasi Quando queste persone Su questi gruppi Pubblicano News Arriva Sto film in Blu-ray In questi formati Blah 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 95 volte su 100 Ci azzeccano Se non vorrei anche Esagerare 99 su 100 Quindi Diciamo che ok Non sono l'Hollywood reporter Ma hanno dimostrato Di avere credibilità Quindi io mi fido abbastanza Poi magari stavolta Quell'1 su 100 Qui cannano Non lo so Però Io per ora Sono fiducioso Che abbiano detto Assolutamente il vero E questa cosa qui Di avere un film Tra l'altro giapponese Di cui fai uscire La Steelbook E la Collector's Edition Mi ricorda Your Name Quanto ho fatto appunto Con questo film Nel 2016 Dalla Dynit Che appunto Fece uscire Soprattutto a Lucca C'era Si poteva acquistare Sia questa che la Steelbook Io ho acquistato questa Che è la più Che è l'edizione più figa Godzilla Minuswan Ha avuto forse Un po' meno successo Di Your Name Comunque ha avuto Molto successo E ha anche vinto un Oscar Quindi Ora non è chiaro appunto Chi la distribuirà In Italia Se fosse la Dynit Che se la Rebecca Appunto dopo Shingozilla Che già aveva distribuito Quella Ce li vedo Effettivamente Ce li vedo A fare appunto Collettos Edition Così che appunto Quella di Come quella di Minuswan E appunto Anche la Steelbook Che appunto Come appunto Aveva fatto Con Your Name Cioè per farvi intendere Your Name Era così Solo a livello di dischi Guarda caso Sono 4 dischi Più tutta un'altra serie Di gadget Che ha Adesso non me la faccio vedere Però il concetto è Questa cosa È già successa E ripeto Godzilla Minuswan È un film Molto amato Grande successo In Giappone Cioè non solo in Giappone Ma anche nel resto del mondo Un Oscar Ricordiamo Un Oscar storico Perché primo Oscar Per gli effetti visivi Dati a un film Non americano Quindi Non mi stupirei Più che altro La cosa che mi sorprende Assolutamente in positivo È che il film È stato rilasciato Minuswan A giugno Su Netflix Io pensavo quindi Che ci avrebbero messo Un paio d'anni A farlo uscire in un video Come è successo Alla trilogia anime E invece Sembra che uscirà Molto prima Questa cosa Mi fa molto molto contento Parlando appunto Di Godzilla e Kong Non c'è molto altro Da dire appunto Steelbook Non granché Però appunto Secondo me Nessuna delle steelbook È davvero carina Ho preso quella Che mi piaceva Un po' di più Appunto perché Io voglio prendere In steelbook Tutti i film del Monsterverse Quindi non Non avevo alternative Poi non è che Le amarei Avessero chissà quale artwork Quindi va bene così Il disco funziona Benissimo C'è anche a livello Di qualità audio video La Warner Bros È sempre molto brava Quindi Che dire Se volete Il film in un video Prendetevelo Io appunto Ho scelto quello Aspettiamo appunto Intrepidi Godzilla Minuswan E quindi che dire Questo video Finisce qui Grazie per averlo seguito Se vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Commentate Incrociamo le dita Che arrivi il più presto possibile Appunto Minuswan in Blu-ray Tra l'altro Godzilla Sarà di nuovo presente In un prossimo video Perché tra qualche giorno Il 26 luglio Uscirà il nuovo fumetto Di Godzilla Edito da Salda Presse Dio la benedica Quindi avremo ancora modo Di parlare Del sauro atomico Detto questo appunto Vi saluto Ci rivedremo Per altri video E appunto Per quell'appuntamento Lì E come sempre Un saluto Dall'unico vero re Dall'unico vero re